Oggi vi mostrerò come avere una ferpa fighissima gratis per il vostro avatar di Roblox Ciao a tutti i Dreamers, i miei amatissimi segnatori Io sono Francesca e bentornati sul canale Bentornati nella serie, si la chiamavamo serie Giochi che regalano cose gratis per il nostro avatar di Roblox circa Ma si, stiamo tornati con questa miniserie Dove io vi mostro giochi di Roblox che appunto ci danno indumenti, gadget e accessori gratis per i nostri avatar Prima di andare dovete lasciare un fantastico mi piace adesso Distruggete il tasto dei mi piace se volete altri video Perché ci sono dozzine e dozzine e dozzine di giochi pronti a regalarci cose Se volete scoprirvi anche voi un bel 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 mi piace Già vi anticipo la felpa di oggi è fighissima Dovete cercare questo gioco Il nome non promette bene, vero? Si chiama Fuggi dalla testa che corre Lo so ragazzi Fidatevi, trust the process Fidatevi del processo Fuggi dalla testa che corre di Manato48 E la descrizione ci dice Corri dalla testa che corre il gruppo di Roblox Evento Puoi ottenere una felpa con cappuccio James Company Quando cancelli il livello James Company E ottieni il distintivo Con cancelli io credo che loro intendano completi Quindi e poi vabbè ci sono i vari aggiornamenti che sono stati fatti Il nome della testa è Felipe Che fan di Flamingo ha fatto Cioè parlano un po' come Yoda Il nome della testa è Felipe Che fan di Flamingo Youtuber ha fatto Vorrei ringraziare Flamingo Stiamo cercando di rendere questa esperienza a un bel posto Se hai qualche problema con il gioco Vuoi fare un suggerimento Vabbè, vabbè Comunque ha ricevuto 1.2 milioni di O miliardi Non so bene E me le dica Cosa significa? Di visite in generale Quindi i server in realtà non ci interessano Andiamo su play E vedo ragazzi Fidatevi Allora siamo qui con i nostri abitini 3D Che spaccano sempre un botto Credo che il gioco non abbia audio Vabbè le monete Queste sono tutte le varie cose che si possono comprare Ma a noi non gli interessano Mi sono incastrata Tanto per cambiare Questi sono i vari livelli Ma noi ragazzi Dobbiamo Andiamo Andare Qui Quindi chiudiamo questo Chiudiamo quello Perfetto James Company Special Stage Avete tempo fino al 28 maggio Per completare questo labirinto Ed avere l'oggetto UGC Allora Che è una felpa anime? Sì Qui ci sono un sacco di ragazze anime Ah James Company È un È un gruppo virtuale di idol Ma in che senso virtuale? Qui c'è già lo spick Nick pic Della 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 felpa Completa il livello Per avere La hoodie Dopo che hai avuto Dopo che hai ottenuto Il badge Vai nel tuo inventario Per trovarlo Quindi loro sono Ah no Si comprano E no Che cacchio Capito No 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 Fa nulla Queste quindi sono tutte le ragazze C'è l'audio Ma a questo punto Semplicemente Io non avevo Le cuffie Ma io credo che questo audio Sia coperto da copyright Tipo questo Oddio Oddio Oh Gesù No aspettate raga Allora questa musica Sarà messa tipo super bassissima Noi dobbiamo andare lì al centro Quindi tipo dovrei fare Pa 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 Ok vado Mollia Oddio Una testa mi sta inseguendo Un'altra testa Oh mano Oddio No così no Ok 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 No raga si può fare Loro Me lo distraggono Ok 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 Ci pensano Stanno tornando indietro Vero Wow lo devo viste Wow hanno fatto il muro Compatto Salve ragazzi Perché siete Avete costumatività C'è Ok vado Dove sto andando Strada sbagliata Ok strada giusta Qualcosa mi sta inseguendo Vero Bro Ho capito che sei vestito Da cocco gigante In realtà questo E si può ottenere Sempre tramite un gioco Fatemi sapere Se volete Il video su come ottenere Questo vestito Da cocco Cocco bello Ok Andiamo Io seguo il cocco Io seguo il cocco Bello Oddio Stata sbagliata Stata sbagliata Se no Ne come no Na na ra Na na ra Na na ra Signora Signora Sono una brava persona Oh signora Sei uscita Da dietro all'angolino Proprio Mamma mia signora Bella Che combinato Sono uscita Proprio da dietro all'angolino Ho sbagliato Mi sono chiusa dentro Mi sono chiusa dentro Signora con il fiocchetto La prego Mi lasci stare Eccola là L'infame Oddio Signora con gli occhiali Ok 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok ce l'ho fatta Allora Proviamoci Quindi è già fantastico E comunque questa cosa Sono due Abbia il c... Sono due Oddio Dove vado? Non ho la più pari Dove sto andando raga? Yeee Ok Stavo andando nella direzione sbagliata Se il tizio stava tornando in... Ma scusatemi ragazzi Ma mi stavate aspettando Ma siete arrivati Informazione compatta Cioè ragazzi È arrivato tutto il gruppo Ok 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 Ho approfittato della distrazione Ma di qua è sbagliato Vero? Sto sbagliando Ok mi sono chiusa dentro Anche qua sarà chiuso Oh no ragazzi Ce l'abbiamo fatta Nenne Nenne E abbiamo sbloccato Ha vinto il premio Azienda di gemme Ok queste sono ancora le cose Che si comprano E se vado qui al centro Ho preso dieci gettoni Cosa farò di questi dieci gettoni? Non ne ho la più palida idea Ma usciamo da questo gioco E andiamo subito a vedere Il nostro vestito super super fantastico Yeah Hey hey Aspettate posso No no Come si balla? Non lo so Vabbè Andiamo su esci Ok E andiamoci subito a vedere Guarda Ti do un mi piace sulla simpatia Perché te lo sei meritato C'è chi sono questi? Vabbè c'è brocchiva Ok Allora andiamo Andiamo su Personalizza Vestiti Eccolo qui Ecco qui la nostra felpina Ok non mi sta benissimo Lo ammettiamo Però è figa Cioè se mi Se Se mi cambio i capelli Secondo me Potrebbero andarmi anche bene Tipo se metto questa Eh vedete Così già mi va meglio rispetto Se no Però questi sono i miei capelli Vabbè io ho Con questa testa Particolare Io con questa testa particolare che ho Però raga La felpa Non è per nulla male Ci sta Scopare il mio zainetto all'interno Questo si Ma la felpa Mi piace Mi piace Un botto È veramente veramente carina Guardatela Non ho idea di chi siano queste persone Mi informerò su questo Gruppo virtuale Di idol Ma La felpa Ci sta alla grande È un po' come quelle felpe Che si vedono per il comic con Cioè quelle là con tutte le teste Degli anime Ok però Sapete Questa Me la tengo Però Sono indecisa Questo si bisognerebbe fare Un outfit Come si deve Con questa felpa Quindi non so Forse non me la tengo Non me la tengo Ma Aspettate Ma Bisognerebbe fare Un outfit Perfetto Proprio con questa felpa Qui Io avevo quest'altra maglia Qui Anche se Bisognerebbe iniziare a fare Uh Ah mi toglie la felpa Wah Ma come Cioè mi toglie la felpa Il cellulare Dovremmo iniziare a fare Un mini Outfit Un mini 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 Vestito Outfit Estivo Però Non vi preoccupate Prima o poi lo faremo Prima o poi lo faremo Soprattutto Si dice che Adopt Me Stia Progettando Di fare A breve Di supportare A breve I vestiti In 3D Quindi poi Finalmente Potremmo portare Il nostro Outfit Come si deve A un livello Superiore Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa felpa A me piace Davvero tantissimo E comunque È stato divertente Giocare a questo gioco Di queste teste Anime Che mi rincorrevano Le sognerò stanotte Probabilmente Molto probabilmente Però 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 Secondo me ci sta Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Proverete questo gioco Proverete ad ottenere Questa felpa Vi ricordo che avete Soltanto fino al 28 Quindi soltanto Fino a fine mese Io nel frattempo Continuerò a cercare Giochi che ci daranno Cose gratis Per il nostro inventario E mi raccomando Se hai trovato questo video Utile Un bel mi piace Adesso Prima di saldarci Abbiamo ben due Nuove dreamers Di platino Da salutare Abbiamo Sara E Asia Che si sono abbonate Per la prima volta Come dreamers Di platino Grazie mille ragazze Grazie mille Asia E grazie mille Sara Per esservi abbonate Al canale Un mega extra bacione Per voi E se tu che stai guardando Questo video Non sei ancora iscritto Al canale Ma cosa stai aspettando Cosa stai aspettando Tappa qui sul pallino E poi sul tastino rosso Iscriviti Mentre per vedere Altri video presenti Sul mio canale Ti passerà cliccare Sulle miniature Che vedi a schermo Io ti saluto E ci vediamo domani Alle 15 Con un nuovo fantastico video E mi raccomando Non smettere mai di sognare Ciao